Guarda, la meravigliosa signora Harris e la sua amica fidata. Che vi offro, signore? Settimana fortunata. Due porto con limone. Ogni settimana è fortunata se il bookmaker è lei. Parole sante, tesoro. Due porto con limone, grazie. Ora che ho la vostra compagnia, non mi manca nulla. Credo che per avere la nostra compagnia sia sufficiente un drink. Loro sanno giudicare bene le persone. Lei le piace, Ed. Com'è che vivono con lei se sono così svegli? Perché la frequenta? Pronto la sempre. Ci siamo conosciuti nella fabbrica di aerei. Mai avuta mica migliore. Sa qual è il problema? Che dice sempre la verità. Non riesce a farne a meno. Sì, è una terribile afflizione. Comportatevi bene, mi raccomando. La terra d'occhio.